Papà, fai a vedere se sono tutte su. Cinque chili? No! Eh sì? No, ha guarnato più di un chilo. Gigi, sei pesantina, cicciotta, sei un cicciotta. Sei un cicciotta. Ti fai a vedere? Guarda che occhioni che abbiamo. Io so che non ti piace tanto, però posso vedere la bocca. Oh, dai, esagerata. È molto bello questo, eh? Sì, ce l'ha tutti i colori, tra i colori. Cosa è la visita? Sì, c'è già? Ha una pazienza tremenda, questa qua. Proprio... Quanto guarda com'è? Ti piace qua e lo so che ho fatto per gatti, poi ti andate su e giù lì. La panciotta. Veramente panciotta adesso, mamma mia, cinque chili. Io pensavo forse ha guarnato due, due cento grammi, mamma mia. Ok. Cos'è? Sono un po' stanca, eh? Se vuoi che tolgo la collana. Se vuoi che tolgo la collana. guarda. Guarda, guarda. Guarda che sei più chiara. Sì. 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 bravissima. Sì. Sì. Tanto brava. Guarda, guarda questa. Già passata? Sì. 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 Che è un po' dura. Ah ok. Prego. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Sì.